Musica Ben trovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel territorio. Ci troviamo all'interno del Teatro Comunale di Belluno, un luogo dove tutto profuma di cultura, un luogo privilegiato dove incontriamo la Presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti, Tiziana Pagani-Cesa, che ci ospita. Bentrovata Presidente. È un piacere essere nuovamente con voi e saluto con calore tutti gli spettatori di Telebelluno. Grazie Presidente per il tempo che ci dedica per raccontare alcune delle tante iniziative e attività che riguardano la Fondazione e quindi il teatro e quindi questo luogo dove abbiamo detto proprio la cultura regna sovrana. Partirei proprio da questo. È stato un periodo difficile per tutti quanti noi, per la nostra società. Anche il mondo della cultura ne ha sofferto. Mi riferisco ovviamente all'emergenza coronavirus. Adesso di recente è stato posto il fine dello stato di emergenza Covid. Vorrei un suo commento, un bilancio sulla situazione per quanto riguarda quindi il nostro teatro. Io sono stata letta nel 2020 e c'era già il Covid. Quindi la stagione 2020 e la stagione 2021 era stata quasi annullata. Però a settembre, già durante l'estate del 2021, abbiamo ricominciato a fare spettacoli sia all'aperto che al chiuso. È stato possibile ritornare a teatro a ottobre. Prima con le limitazioni al 50% e poi dall'inizio dell'anno le limitazioni sono cadute. È obbligatorio la mascherina FFP2, è obbligatorio il Green Pass rinforzato. E anche con le nuove disposizioni sono cadute molte delle normative per i ristoranti, per l'aperto, ma per il teatro è rimasto il Super Green Pass, cioè il Green Pass rinforzato. Però abbiamo la capienza al 50% e negli ultimi tempi abbiamo visto spesso il teatro pieno e quindi la gente ha voglia di tornare a vivere la cultura direttamente, in presenza. Anche i concerti vedono un certo numero di persone che spesso sono fatte in teatro e abbiamo avuto spettacoli come Virginia Raffaele, che ha dovuto fare due repliche perché era tutto pieno. Alice in Wonderland, uno spettacolo di danza circense, era veramente esaurito e anche Boomerang, un altro spettacolo di danza, è andato molto bene. E in gennaio, quindi ancora con la pandemia molto forte, Bergonzoni aveva un bel pubblico, quindi la gente ha voglia di tornare a teatro e a viversi la cultura. Infatti, diciamo, questa è proprio una delle forme artistiche che può dare un sollievo ad affrontare anche la quotidianità, la vita di tutti i giorni, a così respirare proprio un po' di aria preziosa mi verrebbe quasi da dire. Certo, certo. La cultura è un elemento fondamentale per poter uscire dall'incubo che stiamo vivendo. Anche venire a teatro e non ascoltare i telegiornali alla sera, questo è un momento di pausa dall'ossessività delle notizie della guerra in Ucraina, questi orrori che diventano sempre peggio, è un sollievo per lo spirito poter venire a teatro e poter godere di armonie, di belle immagini, anche eticamente e anche incontrare le persone. Quindi riscoprire il valore delle relazioni, anche relazioni autentiche. Senta, Presidente, lei accennava appunto alla guerra in Ucraina, questa drammatica situazione che accade a due passi da noi, proprio nel cuore dell'Europa. Anche la Fondazione Teatri delle Dolomiti ha ovviamente raccolto l'appello della solidarietà e si è fatta promotrice di iniziative e di azioni che hanno avuto dei risvolti positivi, incoraggianti per alcune persone che soffrono e che fuggono da questa tremenda situazione. Certo, noi avevamo prenotato lo spettacolo Alice in Wonderland ancora in ottobre attraverso Arteven che è l'agenzia veneta che ci ha offerto questi spettacoli di danza e qualche giorno prima che arrivassero a Belluno gli artisti del gruppo ucraino abbiamo saputo che erano ucraini perché loro si chiamano, hanno un nome che non riguarda l'Ucraina come gruppo circense e quando l'abbiamo saputo volevamo dirlo prima e loro ci hanno pregato di dirlo dopo per cui lo spettacolo è stato straordinario comunque perché poi la guerra, loro sono venuti qui il 25 di febbraio la guerra era scoppiata da due giorni quindi posso immaginare con quale cuore, con quale angoscia gli attori ucraini facevano queste acrobazie che richiedevano una concentrazione incredibile perché erano equilibristi che stavano uno sulla testa dell'altro a altezze incredibili e invece loro sono stati bravissimi e alla fine quando ho detto che oltre che per la loro bravura li applaudivamo in modo speciale per il fatto che erano ucraini tutto il teatro è risuonato di applausi è stato proprio commovente quindi c'è stata un'atmosfera ancora più successiva un'atmosfera molto commovente e dopo io ho delle conoscenze in giro ho fatto un po' sapere che questo gruppo di teatro circense erano ucraini sapevo che andavano a Bologna, a Ferrara, ho fatto delle telefonate e devo dire che nell'Emilia Romagna è successa una cosa meravigliosa non solo hanno avuto i teatri pieni ma il presidente della regione Bonaccini ha sollecitato gli enti teatrali dell'Emilia Romagna per dare a loro più possibilità di repliche avrebbero dovuto chiudere la loro tournée il 15 di marzo e invece hanno avuto un sacco di richieste in Emilia Romagna e quindi sono rimasti in Italia a tempo indefinito e hanno fatto venire anche le loro famiglie, 35 persone ecco quindi l'esempio concreto di come si riesca davvero ad essere una grande solidarietà assolutamente sì il teatro è un'occasione di crescita un'occasione di formazione a livello personale per ognuno di noi ci sarà breve un omaggio ad una persona che della formazione ha fatto proprio la sua missione anche di vita mi riferisco al grande maestro Manzi il 9 aprile ci sarà lo spettacolo Alberto Manzi storia di un maestro del tip teatro con la regia di Daniela Nicosia che racconta tutta la carriera del maestro Manzi anche prima che diventasse il protagonista della trasmissione televisiva che tutti conosciamo non è mai troppo tardi prima di questo lui aveva insegnato al carcere di Re Bibbia cioè una cosa difficilissima dove è stato rifiutato smascherato lo prendevano in giro ragazzi di strada piccoli delinquenti a cui lui alla fine è riuscito a insegnare a leggere e a scrivere e poi dopo con gli spettacoli televisivi non è mai troppo tardi è riuscito a far prendere il diploma elementare a 2 milioni di italiani dopo di questo è andato anche a insegnare ed era rivoluzionario anche dal punto di vista didattico è stato uno dei primi a criticare il voto dicendo che bisognava dare un giudizio più complessivo su ogni studente e quindi è stato veramente un grande didattico e questo è uno spettacolo che verrà portato a Belluno da una delle realtà presenti appunto sul territorio il tip teatro con Daniela Nicusia che ha fatto la regia e quindi siamo orgogliosi tra l'altro il tip teatro è uno dei residenti bellunesi con cui noi lavoriamo stabilmente ecco gli altri due invece gli altri due sono gli Slow Machine Rajiv Bahan e il Circolo Cultura e Stampa che fa sempre una bellissima stagione di prosa gli Slow Machine riguardano un pubblico un po' più giovane e fanno degli spettacoli sperimentali o comunque molto interessanti anche loro e quindi abbiamo tre soggetti che promuovono una stagione quindi abbiamo tre stagioni in più ci sono gli spettacoli che propone la Fondazione quindi abbiamo tre soggetti residenti a Belluno più la Fondazione più ci sono anche altri che ci chiedono il teatro con degli spettacoli la Fondazione quest'anno ha promosso l'opera lirica in collaborazione con Belluno Sinfonia di Daglio Cassetta e abbiamo dato due opere liriche un grande concerto per San Martino il Barbiere di Saviglia e la Traviata quindi un ritorno particolare un ritorno particolare erano tantissimi anni che non veniva data all'opera lirica perché è molto complesso e anche molto costoso far venire l'opera lirica a Belluno poi bisogna che si adattino al tipo di palcoscenico che abbiamo qui quindi non possono avere scenografie come l'Arena di Verona e quindi siamo riusciti e vorremmo nell'autunno del 22 riproporre delle altre opere liriche quindi proseguiamo su questo in più abbiamo preso gli spettacoli di danza di Arteven che sono stati appunto in autunno abbiamo dato tutta una serie comunque di spettacoli dedicati proprio al mondo della danza esattamente vado un po' veloce Presidente perché ho ancora tante domande da farle un altro pubblico d'eccezione è anche o comunque un filone di spettacoli è quello dedicato alle scuole certo collaboriamo con Scuole in Rete con cui abbiamo fatto vari spettacoli di teatro civile e in cui siamo riusciti nonostante la pandemia a far venire i ragazzi a teatro anche con una preparazione cioè gli stessi attori parlavano con i ragazzi spiegando quale era lo scopo e le motivazioni di questa siamo riusciti a dare andrangheta e poi Scuole in Rete ha fatto molte altre spettacoli con noi e anche senza di noi Scuole in Rete è molto attivo anche questa sera c'è uno spettacolo e il tip teatro si occupa soprattutto dei bambini incomincio dei tre che però vanno fino ai 12 anni quindi comprendiamo anche le scuole medie ed è sono spettacoli dedicati e il tip teatro fa una grande attività anche attraverso le scuole preparando i ragazzi preparandoli e diciamo dal suo osservatorio privilegiato Presidente al di là di quella che può essere la programmazione specifica per queste fasce d'età i giovani sono attratti dal teatro sono fruitori di queste proposte allora bisogna dire la verità che a teatro i giovani vengono se è in orario scolastico ma se si fanno gli spettacoli alla sera anche orientati per i giovani i giovani a teatro non vengono come mai secondo lei? mi sembra una cosa da vecchi è molto difficile coinvolgere i giovani nelle attività culturali sono molto distratti ragionano molto in termini di telefonino di smartphone vedono tutto dentro a questi piccoli schermi hanno perso il piacere di vedere insieme dal vivo delle realtà e quindi bisogna investire sull'educazione sull'educazione artistica esatto per quello che mi pare molto importante anche attraverso le scuole ma l'impressione mia è che vengano perché in orario scolastico ma se la stessa cosa viene data la sera non vengono è molto triste questa è la sfida per la società tutta perché parte comunque anche dalle famiglie stesse da questa abitudine di portare anche i figli a teatro senta Paganicesa abbiamo prima omaggiato e ricordato il grande maestro Manzi ma in questo 2022 ricorre un anniversario particolare mi riferisco ai 100 anni della nascita del grande Pierpaolo Pasolini e c'è una particolare rassegna che voi portate in scena in collaborazione con il Comune di Belluno e con il Cinema Italia lo storico cinema del capoluogo dedicato a questo altro grande maestro Pierpaolo Pasolini è un personaggio molto complesso e molto importante per l'Italia è veramente qualcuno che ha uno spessore culturale che è così grande e su cui esiste una tale bibliografia che lo si può avvicinare quasi a Dante come impatto per l'Italia una voce critica era un saggista era un poeta ed era soprattutto un regista molto grande e quindi ci sembrava doveroso fare qualcosa che lo ricordasse devo anche ricordare i bellunesi che Pierpaolo Pasolini ha vissuto a Belluno tre anni era figlio di un militare e quindi nella sua vita si è spostato varie volte lui è nato nel 22 ma dal 27 al 30 ha abitato a Belluno dove è nato anche suo fratello abitava in un villino di fronte al liceo classico Tiziano lì dove c'è più o meno la Fenice dove c'era la Fenice quindi ha vissuto un attaccamento bellunese particolare quindi con Belluno mi sembra era utile farlo sapere e allora abbiamo deciso di fare una rassegna di film di Pierpaolo Pasolini preceduti da una conferenza da qualcuno che spiega il personaggio e anche il film in particolare avremo l'Edipo Re il 14 aprile al Cinema Italia sempre la data è sempre il posto è sempre al Cinema Italia e l'orario è sempre le 20 e 30 daremo l'Edipo Re che è un film del 1967 con un'introduzione di Francesco Piero Franchi il noto intellettuale bellunese che parlerà su Pasolini e l'enigma primordiale quindi cioè il mito di Edipo e tutto quello che riguarda lo sappiamo questo ambito sarà spiegato prima in una mezz'ora perché poi c'è il film e vogliamo goderci il film poi avremo il fiore delle mille e una notte sempre introdotto da Francesco Franchi splendore e ambiguità del sogno in Pasolini il fiore delle mille e una notte è un film bellissimo estetico girato in posti magici come lo Yemen per esempio purtroppo che adesso sono distrutti dalla guerra pure questi di drammatica attualità anche di drammatica è un'altra guerra di cui si parla troppo poco in cui la gente soffre tantissimo e poi presidente l'ultima proiezione l'ultima proiezione sarà la ricotta del 1963 che è un un cortometraggio di Pasolini particolarmente estetico perché ricostruisce la storia della crocifissione e nel momento in cui arriva la crocifissione in immagini rifà il quadro della crocifissione di Rosso Fiorentino quindi abbiamo proprio una contaminazione tra il manierismo di Rosso Fiorentino e le immagini di Pierpaolo Pasolini e questo sarà introdotto da Antonio Costa docente di storia del cinema presso il Dams di Bologna per molti anni e poi a Padova e all'Ojuava di Venezia che ha fatto anche un cortometraggio che si chiama Un capriccio dolcemente robusto che è proprio un cortometraggio sull'estetica delle immagini di Pierpaolo Pasolini quindi avremo una serata tutto tondo veramente con tante suggestioni tante occasioni sul realismo e manierismo di Pasolini esatto Presidente il nostro tempo si è concluso ormai ma noi ritorneremo ovviamente a trovarla ringraziandola ancora per la disponibilità per continuare a sognare e a godere assieme di tutte le meraviglie che il teatro e la cultura a sognare a sognare e la cultura e la cultura a sognare a sognare a sognare a sognare a sognare Grazie a tutti.